40 a 0 ma cosa, vai via, vai via, vai via, lasciamela Così, arbitro, ma come 40 a 0, ma non ha visto che è fuori il tanto così almeno, ma cos'è? Cieco Alla battuta Così La palla per favore Vai, vai, tira Grazie Alla battuta l'avvocato Frankenstein Restituisco la, la, la Insomma, è meglio la tenga lei Gem, gioco partita incontro avvocato Frankenstein E no, Vlad, non è giusto Tu hai varato, non ti sei comportato in maniera leale E allora sai cosa ti dico? O lì dà la rivincita, o io me lo sfondo lo stesso Ha ragione, accettiamo di nuovo Ma la scelta delle armi resta sempre nostra Grazie Grazie Grazie